Siamo a fine d'anno, in pieno inverno, tempo tradizionalmente noto per qualche piccolo acciacco di stagione, quindi influenze e virus vari. In tanti stanno a casa, quindi trascorrono le proprie ferie, magari a letto o distesi sul divano. Il primo approccio è con il farmacista. Prima di chiamare il medico, il proprio medico di famiglia, che comunque spesso è in ferie, perché appunto si sta male spesso in questi tempi di vacanze, è proprio con il farmacista. A Iesi è presente nel corso Matteotti la farmacia Martini. Fin dal 1938 è un punto di riferimento per i cittadini di Iesi. Incontriamo il dottor Gaetano Martini, titolare della farmacia, appunto con una lunga esperienza in questo settore, a quale chiediamo proprio qual è questo approccio di noi malati con questi sintomi di stagione. Beh, il primo approccio è senzato quello di rassicurare i pazienti nel constatare che è solo un sintomo influenzale, che non va sottovalutato ma non va neanche preso con eccessiva ansia. Il primo consiglio è quello di aspettare che la patologia abbia il suo corso e capire bene i sintomi senza andarne a coprire la sintomatologia. Quindi per l'influenza anche quest'anno bisogna avere pazienza e tempo. Poi, fatto un primo screening delle prime 24-36 ore, bisogna intervenire con i farmaci appropriati. Quest'anno l'influenza colpisce abbastanza quello che è l'apparato gastrointestinale, quindi fare una buona prevenzione attraverso quelle che sono i farmaci che danno un aiuto per la flora batterica, aspettare e controllare anche se la temperatura sale. Io, quello che consiglio, fino a 37,5-38 gradi, la temperatura è fisiologica che ci sia in uno stato febbrile, quindi non andare a coprirla con altri farmaci e poi, casomai, intervenire quando la temperatura sale. Chiaramente, fatto il suo primo screening, puoi avvertire il proprio medico di base che farà una diagnosi più accurata.